I gruppi di centro-sinistra del Comune di Teramo non vogliono arrivare impreparati alle prossime amministrative, per questo IDV, PD, SEL e Rifondazione Comunista hanno dato il via a un laboratorio che si concentrerà sulla stessura del programma con cui presentarsi all'appuntamento elettorale. È un gruppo operativo di lavoro, spiega Siriano Cordoni, che intende raccogliere le istanze che vengono dal territorio per strutturarle in una proposta per la città. È un primo passaggio per la costruzione del programma del centro-sinistra, è un passaggio importante perché iniziamo un percorso lungo che dovrà durare due anni e mezzo, che dovrà essere cadenzato da vari appuntamenti nei quali appuntamenti costruire il programma per la città di Teramo. Intorno a questo tavolo, ovviamente in questa fase preliminare, siederanno i partiti politici del centro-sinistra, Teramano, si deciderà successivamente come aprire e come ampliare la coalizione di centro-sinistra. La parte più importante è cominciare a discutere perché abbiamo la responsabilità di dare delle risposte concrete, serie, alla città di Teramo per dire che c'è un'alternativa valida, un'alternativa capace di amministrare in maniera diversa dal centro-destra la nostra città. Non si tratta di un laboratorio chiuso, puntualizza Siriano Cordoni, ma il dibattito si aprirà al contributo delle liste civiche o di quei partiti che vorranno sposarne i contenuti. Il consigliere Cordoni spiega di non voler chiudere le porte né all'UDC, corteggiato da PD, né all'UDT, contro cui l'Italia dei Valori non ha opposto resistenze sulla scelta del componente del CDA della Teramo, ma precisa, le trattative non seguiranno canali personali, ma verranno portate avanti sulla base di una condivisione del programma emerso dal laboratorio. Il progetto verrà formalizzato stasera all'hotel Fortezza di Civitella del Tronto.